Come ogni martedì prima di un Gran Premio torna i segreti della pista, assieme a un tecnico del moto mondiale, in questo caso Elvio Deganello, ripercorriamo curva per curva il circuito di Le Mans cercando di indicare quali sono le caratteristiche principali del famoso tracciato francese, famoso soprattutto per la 24 ore di Le Mans automobilistica. Alle ore 18.45 in diretta, quindi io ed Elvio Deganello rispondiamo anche alle vostre domande e curiosità e su Zamtube trovate una diretta fatta ieri con Tony Arbolino, veramente un personaggio straordinario e trovate anche un sacco di altre cose. Allora 18.45 in diretta, segreti della pista, vi aspetto, ciao a tutti!